Grave incidente lunedì mattina a Milano. Un uomo è stato investito da un'auto in Viale Monza all'altezza del Civico 267 nelle vicinanze della stazione della metropolitana di Precotto. Le sue condizioni sono parse fin da subito molto gravi. L'uomo è stato trasportato con un esteso trauma cranico in codice rosso all'ospedale Niguarda. Prima è stato intubato sul posto. Lo schianto è avvenuto intorno alle 10.30. Secondo la ricostruzione della dinamica dell'incidente, l'uomo dell'età di 60 anni a causa dell'impatto è stato sbalzato per una decina di metri, cadendo poi rovinosamente sull'asfalto. Il conducente del veicolo che viaggiava su Viale Monza in direzione Loreto si è subito fermato per prestare soccorso. Ancora però non è certo se l'uomo stesse attraversando la strada sulle strisce pedonali. Sul posto sono subito arrivate un'ambulanza e un'automedica. Intanto spetterà agli agenti della polizia locale intervenuti per i primi rilievi a ricostruire l'effettiva dinamica dell'incidente.